E' morto all'età di 97 anni Italo Poffetti di Arbanno, noto nel mondo degli Alpini per essere stato un testimone vivente dei reduci della divisione Acqui che fu sterminata dagli ex alleati tedeschi all'indomani dell'8 settembre 1943, quando venne firmato l'armistizio e l'esercito italiano venne abbandonato a se stesso. Nelle isole greche, Cefalonia, Corfu, Zante e altre minori, dove si trovava la divisione Acqui, i soldati italiani improvvisamente furono accerchiati dagli ex alleati senza sapere cosa stesse accadendo e soprattutto senza avere più nessun collegamento con il comando generale in Italia. Decisero, intuendo quanto poteva essere accaduto, di resistere senza consegnare le armi. Molti furono trucidati, moltissimi furono fatti prigionieri e tra loro anche l'alpino Italo Poffetti. Quando Darfo venne eretto un monumento alla memoria del martirio della divisione Acqui di cui Italo faceva parte, il suo dolore per il lungo silenzio, a volte colpevole che venne steso su una triste vicenda di generali felloni e comandanti inetti, finalmente trovò quello sfogo riappacificandosi con i giorni lontani della persecuzione, della morte e dei tanti lutti. Ogni anno della sua lunga vita Italo Poffetti è tornato per ricordare questa triste pagina di storia, ricordando quasi con colpa di essere stato salvato miracolosamente da un sacerdote. Nel tempo la divisione Acqui è entrata a far parte dell'Ampi, proprio perché quegli italiani che la componevano furono i primi a ribellarsi ai tedeschi. Dunque furono i primi partigiani. Italo Poffetti ricordava quei tempi mantenendo sempre la sua serenità di uomo buono che aveva ritrovato nella pace del lavoro e nella famiglia alla forza di riprendere una vita dopo ben sette anni di guerra, terminati con la lotta partigiana sulle montagne Camune. Si è spento serenamente da patriarca che ha combattuto la sua buona battaglia ed ha terminato la sua corsa. Ora sta ritrovando tutti i compagni e gli amici che con lui hanno combattuto per la libertà dell'Italia e degli italiani. Lui, piccolo grande uomo che non ha chiesto altro se non di non dimenticare i caduti, viene ricordato con onore in queste ore da tutti gli alpini, dei reduci della divisione Acqui, dalle associazioni combattentistiche ed arma, dalla società civile, dalla sua comunità e dalla sua grande famiglia. Questo lunedì sera alle 20.30 la veglia di preghiera è presso la sua abitazione in via Costantino 11 a San Martino di Arbanno, martedì 28 al funerale dalle 17 nella chiesa parrocchiale del suo paese.